Ciao, stai ascoltando Pillole di Bit? Io sono Francesco, questo è Pillole di Bit e state ascoltando la serie speciale di Natale 2019. 24 persone che hanno fatto la storia dell'informatica, senza le quali il mondo oggi sarebbe profondamente diverso. Una pillola al giorno dal primo al 24 di dicembre. Herman Hollerith nasce nel 1860 e muore nel 1929. Viene definito uno dei padri dell'informatica e il fondatore di una azienda che ancora al giorno d'oggi è un colosso. Tranquilli, la puntata è breve e scoprirete presto a che azienda mi riferisco. La scintilla che attivò la sua creatività fu il censimento americano del 1880, al quale partecipò come statistico e per il quale inventò un macchinario meccanico per il conteggio. Ideò durante un viaggio in treno, guardando i controllori che bucavano in modi diversi i biglietti in base al tipo di viaggio, la modalità di inserimento dati nella sua macchina, la scheda perforata, il lontanissimo antenato delle nostre chiavette USB. A differenza della macchina di Babbage, le schede perforate contenevano i dati e non il programma. Presentò la macchina tabulatrice per il censimento del 1890 e vinse la gara per l'appalto con il governo. La macchina tabulatrice era in effetti semplice, si inseriva la scheda perforata, dove c'era il foro veniva chiuso un circuito elettrico che faceva avanzare un contatore con l'aiuto di un relais. Nel 1895 Marconi fece la sua prima trasmissione di onda radio nell'Ethere. Nel 1896 Herman Hollerith fondò la sua azienda, la Tabulating Machine Company, che a seguito di fusioni e passaggi di proprietà diventerà nel 1924 la International Business Machine Corporation, nota a tutti come IBM, visto che alla fine ve l'ho detto. Avete ascoltato Pillole di Beat, la serie speciale di Natale 2019, questa era la storia di Herman Hollerith, io sono Francesco e per contattarmi e contribuire alla realizzazione del podcast, sul sito pillole di Beat col punto prima dell'Ethere trovate tutte le informazioni. Grazie per l'ascolto, vi do appuntamento a domani per il prossimo personaggio. Grazie per l'ascolto, vi do appuntamento a domani per il prossimo personaggio.